Musica Roberta Mestola in visita a Lecce, se il sud cresce, prosperano anche l'Italia e l'Europa. Uno spettacolo che lascia senza parole, ha detto il presidente del Parlamento europeo visitando a Lecce la Basilica di Santa Croce, accompagnata dal ministro per gli affari europei e il PNRR, Raffaele Fitto. Un paio di scarpe rosse accanto all'elenco delle donne uccise da mariti, compagno ex e la foto di Enza. Così l'altare della cattedrale di Andrea ha accolto il feretro di Vincenzo Angrisano, la donna di 42 anni accoltellata il 28 novembre da suo marito nella loro abitazione. La chiamata da Amadeus non è arrivata, ma il maestro lo sapeva già. Albano Carisi fuori da Sanremo 2024, nonostante le due canzoni presentate al direttore artistico. Ne ha parlato a margine di un seminario organizzato dal Dipartimento di Economia dell'Univa. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna Sud in apertura del nostro telegiornale interregionale di Puglia e Basilicata alla visita a Lecce del presidente del Parlamento europeo. Se il Sud cresce prosperano anche l'Italia e il Sud, ha dichiarato Roberta Mestola. Dopo la tappa di Caserta, la presidente dell'Eurocamera a Lecce, al fianco del ministro per gli affari europei e il PNRR, Raffaele Fitto, il servizio di apertura e di Maria Teresa Carrozzo. Abbiamo creato le condizioni qui a Lecce per avere un incontro istituzionale molto utile e proficuo. Sono convinto che questa presenza non sia solamente un'opportunità per parlare di ciò che stiamo facendo, ma soprattutto di quello che insieme dobbiamo fare anche per il futuro. Il incontro istituzionale è fortemente voluto dal ministro Raffaele Fitto, quello tra il presidente del Parlamento europeo e le autorità politiche istituzionali del territorio, tenutosi all'interno della Sala degli Specchi della Prefettura di Lecce. Presenti sindaci dei 96 comuni salentini, ad aprire i lavori del convegno del titolo Next Generation e le sfide dell'Unione europea, è stato il prefetto della provincia di Lecce, Luca Rotondi, e a seguire il ministro per gli affari europei, il Sud e le politiche di coesione per il PNRR, Raffaele Fitto. È proprio del beneficio apportato dai fondi europei che parliamo oggi. Qui a Lecce sono qui per constatare in prima persona come l'Europa contribuisce allo sviluppo delle nostre città e delle nostre regioni. Penso per esempio al progetto Scuole Innovativi che mira ad accelerare la trasformazione digitale nelle scuole italiane, alla ferrovia ad alta velocità che collegherà Taranto, Metaponto, Potenza e Battipalia. Io ho saputo che sono disponibili 6 miliardi di euro per una linea di 87 chilometri. Farò un altro esempio al Consorzio per la realizzazione del sistema Francavilla Fontana, che si occupa del recupero di spazi residenziali e della fornitura di dispositivi alle persone disabili. Tutto questo volevo menzionarli perché è la prova che l'Europa sta investendo nel futuro dell'Italia. Raccordare le politiche di coesione con quelle del PNRR è stato il lavoro primario del governo con la Commissione europea, un lavoro che si è concluso con l'approvazione degli obiettivi readeguandoli alle nuove situazioni storiche. Anche il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, nel capoluogo salentino per Scuola Futura ha sbloccato oltre un miliardo di fondi PNRR per istruzioni scolastiche ed enti locali del territorio. Il servizio. Il Presidente del Parlamento europeo poco fa ha parlato proprio di Scuola Futura come progetto virtuoso. E' un bel riconoscimento. Certamente, è un bel riconoscimento all'azione che noi stiamo facendo, è un buon riconoscimento all'impegno che noi stiamo facendo e devo anche dire che in Europa, con i colleghi ministri dell'istruzione, noi siamo spesso all'avanguardia quando parliamo delle nostre iniziative. Ha visto la presenza del ministro Valditara, il campus Scuola Futura ha tenutosi in piazza Santo Ronzo a Lecce una tre giorni di formazione sulla didattica innovativa, di confronto sulle buone pratiche di riflessione con le comunità scolastiche sui temi e sulle sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in cui sono stati coinvolti studenti, docenti, dirigenti e tutto il personale scolastico. Penso al tema della dispersione scolastica, penso per esempio a quello che più in generale è il problema della fuga dalla scuola perché sempre meno laureati vogliono venire ad insegnare nella scuola. Un progetto nazionale itinerante la cui pertenza è stata voluta fortemente da Lecce sia dal ministro dell'istruzione del Meto Giuseppe Valditara che dal senatore della Lega Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura a Palazzo Madama. La prima tappa per questo progetto è da Lecce, come ha fatto a convincere il presidente Marti a partire proprio da Lecce? Si è convinto da solo perché è partito dal lembo di territorio meraviglioso di questa nazione ed è solo casuale perché io sono il presidente della Commissione, quindi il presidente per tutta l'Italia come il ministro è per tutta Italia, ma da qualche parte dovevamo partire, siamo orgogliosi di averlo qui e di partire con la scuola futura che non è solo quello che ha detto il ministro perché il ministro ha fatto pochi mesi fa un grandissimo protocollo d'intesa con il ministro dello sport e con una nostra legge che reintroduce nelle scuole i giochi della gioventù. Ci voleva un governo politico che si assumesse le responsabilità di portare al centro il futuro dei nostri giovani e dei nostri figli. Si è chiusa da pochi minuti a Roma la riunione tecnica sui giochi del Mediterraneo. Il governo sta valutando l'ipotesi del progetto sulle due piscine. Sul piatto anche la nomina del direttore generale che arriverà a Sicura Ferrarese in settimana. Il servizio è di Francesco Manigrasso. Dopo il rilascio da parte della regione Puglia dell'autorizzazione pasiagistica per il progetto di fattibilità tecnico-economica dello stadio del nuoto di Taranto che porterà la costruzione di una piscina olimpica per i giochi del Mediterraneo del 2026 arriva anche il parere favorevole da parte del governo. Ho visto il governo, ho parlato con i ministri, entrambi disponibili anche a questo e quindi adesso studieremo il percorso per ottenere i decreti con le varie possibilità e quindi con i vari stralci. Stiamo lavorando per accelerare, stiamo lavorando per cercare di realizzare anche l'impossibile perché chiaramente ci sono opere dove oggi non c'è progetto dove oggi ancora purtroppo c'è questo grave ritardo e non si può assolutamente pensare di realizzarle senza stralci. Due le piscine previste, una coperta per attività fisiche e preparatorie e una all'aperto con solarium poste in prossimità del livello del mare in piedi resta il frazionamento del progetto in tre stralci l'ultimo dei quali si concluderebbe al termine della manifestazione con la chiusura laterale e il montaggio dell'impianto di climatizzazione della vasca coperta. L'attenzione del governo è massima, fa sapere il ministro a Bodi ma le bocche cucite dal coni fanno presagire che non tutti gli ostacoli sono ancora superati. Siamo già partiti, quindi questa è la cosa importante, non si perde un secondo c'è una complessità che cerchiamo di rendere invece una sceneggiatura naturale dei giochi non c'è nulla da inventare, non siamo la prima edizione se Dio vuole non è la prima volta che lo spediamo in Italia. Il punto deciso è la riunione, lo stadio del nuoto si farà? Guardi, posso dire una cosa, veramente io non faccio parte dell'organizzazione non trovo neanche giusto che tutti sono usciti il ministro ha parlato Il ministro ha parlato C'è qualcuno che ha detto il ministro a noi va bene Un passaggio importante è quello del comitato internazionale però l'incontro decisivo è fissato a Tirana per l'8 e 9 dicembre. La giunta regionale lucana ha approvato una delibera che consentirà a circa 70.000 famiglie di ottenere il significativo risparmio nella bolletta dell'acqua Dopo il bonus gas dunque il governo regionale della Basilicata interviene con un'altra misura strutturale per dare un beneficio tangibile ai lucani. Il servizio è di Francesco Putro La giunta regionale lucana ha approvato una delibera che consentirà a circa 70.000 famiglie con i 6 fino a 30.000 euro di ottenere un significativo risparmio nella bolletta dell'acqua già dal prossimo mese di gennaio Dopo il bonus gas dunque il governo regionale interviene con un'altra misura strutturale per dare un beneficio tangibile ai lucani Un'altra promessa mantenuta afferma il presidente Vito Bardi che annuncia poi le altre iniziative in campo Sicuramente possiamo parlare di un'altra promessa mantenuta Infatti dopo il bonus gas e il bando per i non metanizzati si è pensato anche all'acqua Abbattiamo i costi energetici del servizio idrico lucano gestito dal prodotto lucano grazie a due impianti che produrranno a regime 100 gigawattani di energia Questo è molto importante perché con la diminuzione del costo di energia non solo si dà un contributo considerevole all'acquedotto lucano per la gestione dell'intera risorsa acqua ma questo abbattimento energetico consentirà e avrà un livello positivo anche sulle bollette per i lucani In campo di iniziative ce ne sono tante ma quella che mi preme anche sottolineare sono altre due che noi vogliamo portare a termine La prima è che questi benefici che sono adesso prevalentemente per le famiglie possano essere estese in modo chiaramente diverso anche per le imprese Un altro elemento a cui mi piace fare riferimento è quello della luce Io non escludo perché anche compensazioni possono essere date nel campo dello sfruttamento del territorio per quanto riguarda le energie elettriche Comozione, lacrime e dolore durante le esecue di Vincenza Angrisano la donna uccisa da suo marito Luigi Leonetti Cattedrale Gremita, la comunità di Andrea Barletta si unisce nel dolore Il servizio è di Antonio Gargano Applausi, lacrime e dolore nella cattedrale di Santa Maria Assunta per l'ultimo saluto a Vincenza Angrisano Andrea e Barletta si stringono per l'ultimo saluto alla donna uccisa da suo marito Luigi Leonetti lo scorso martedì parenti, amici e colleghi e concittadini hanno affollato la basilica federiciana nel dramma di due comunità le parole di Monsignor Luigi Manzi, vescovo di Andrea che ha lanciato il suo messaggio ai fedeli durante l'omelia Enza è un chicco di grano da coltivare il suo esempio deve rimanere vivo soprattutto dopo la sua morte affinché l'amore e il rispetto reciproco tornino a trionfare in ognuno di noi al termine della messa un messaggio del sindaco di Andrea Giovanna Bruno ai due figli di Vincenza Angrisano Salvatore e Cristian nel silenzio della cattedrale e della piazza in cui si è radunata la comunità andriese condivisa anche con noi tutti la vostra troce sofferenza in questa città che è anche la vostra casa e che avrà sempre porte spalancate per voi braccia allargate per accogliere umanità da dispensare ecco l'umanità quella che questo nostro difficile tempo sembra averci fatto smargire quella che è stata soffiantata dai giudizi dalla esasperazione verbale dall'egoismo dalla violenza anche fisica violenza che condanniamo in ogni sua forma senza che vi sia alcuna giustificazione mai violenza che va ripudiata sempre ma noi siamo chiamati a recuperarla l'umanità quella umanità che oggi qui si sta facendo preghiera non spettacolo non curiosità e continuano intanto le indagini zia papà ha coltellato mamma ha ucciso mamma Corri sono le parole che il maggiore dei due figli di Vincenza Angrisano ha detto al telefono chiamando la sorella della madre a cui ha chiesto aiuto poco dopo il delitto commesso dal padre e quanto si legge nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere a carico di Luigi Leonetti emessa dal GIP di Trani secondo la giudice Anna Lucia Altamura uno degli aspetti di maggiore rilevanza concerneva la maturazione dell'intento omicidiario a partire da quanto accaduto il 23 novembre scorso quando l'uomo avrebbe preso a schiaffi la moglie facendola finire in ospedale con quattro giorni di prognosi da quel momento in poi l'uomo dichiarava di aver sedimentato l'idea di uccidere sua moglie non aveva ben chiaro il momento né il luogo né la modalità ma questo pensiero si era riproposto più volte nella sua mente aveva pensato di ucciderla in qualche modo si legge nel provvedimento si parla in questo caso dell'aggravante della premeditazione l'uomo è in carcere a Lucera con l'accusa di omicidio volontario aggravato andiamo avanti cambiamo argomento ancora sangue sulle strade Tarantine una donna è morta a seguito di un violento impatto tra due auto avvenuto questa notte sulla statale 109 tra Pulsano e Taranto lo scontro frontale sulla strada statale 109 tra Pulsano e San Giorgio è stato fatale per Lucia Palumbo 73 anni di Talsano la vittima viaggiava in una golf insieme al marito alla guida dell'auto durante lo schianto avvenuto con una BMW con a bordo due giovani l'uomo gravemente ferito ma vivo come i due ragazzi coinvolti nell'impatto sono stati portati in codice rosso al Santissima Annunziata di Taranto e questo è il bilancio dell'ennesimo incidente avvenuto sulle strade Tarantine intorno all'1.30 della notte tra il 3 e il 4 dicembre sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 i vigili del fuoco e gli agenti di polizia del commissariato di Manduria per i rilievi del caso i giovani a bordo della BMW sarebbero negativi all'alcol test intanto il PM di turno della procura ionica ha disposto il sequestro dei mezzi dopo i ripetuti incidenti stradali sulla statale 100 nel tragitto Gioia del Colle Taranto questa mattina si è tenuto un incontro tra Regione e Annas Puglia nell'assessorato ai trasporti su richiesta dei consiglieri regionali Mazzarano Parchitelli di Gregorio e Galante al fine di individuare misure volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale poiché si rende necessario un intervento per la messa in sicurezza della strada durante l'incontro sono state individuate due possibili soluzioni tecniche di breve e medio termine come l'installazione di apparecchi di moderazione della velocità del tipo tutor da istituire in corrispondenza delle tratte a maggiore incidentalità e l'installazione di dispositivi di sparti traffico compatibili con la piattaforma stradale e caccia l'autore della gambizzazione avvenuta venerdì pomeriggio al rione Sant'Elia di Brindisi il servizio e di Gianmarco di Napoli potrebbero arrivare presto a una svolta le indagini sul ferimento di un uomo avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì per strada al rione Sant'Elia di Brindisi la squadra mobile sarebbe sulle tracce di chi ha premuto il grilletto di una pistola semi-automatica facendo fuoco per due volte e colpendo con una pallottola alla gamba la vittima l'altro proiettile si è invece conficcato nel piantone di un'auto parcheggiata per strada il sospettato sarebbe un parente del ferito e si è poi allontanato subito dopo dandosi alla macchia l'uomo che è stato identificato potrebbe essere accusato di tentato omicidio e del porto e della detenzione di una pistola l'episodio è avvenuto intorno alle 15.30 di venerdì tra via Antonio Ligabue e piazza Licini nell'area mercatale del rione Sant'Elia il ferimento sarebbe stato l'epilogo di una furiosa lite per strada tra i due parenti e che si è conclusa a colpi d'arma da fuoco il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari del pronto soccorso del Perrino e poi a quelli del reparto di ortopedia le indagini sono condotte dalla polizia con il coordinamento della procura di Brindisi mentre qualche primo fiocco di neve si posa sul Brindisino sembra annunciarsi il disgelo riguardo il dialogo della riapertura al pubblico del castello Svevo stretta di mano tra il sindaco di Oria e l'aborgo immobiliare per un obiettivo comune il servizio è di Michele Iurlaro è un gesto davvero deplorevole comunque Svastiche e stelle di David sono state scarabocchiate nel centro storico di Oria al ridosso del quartiere ebraico simbolo di storia storie e culture è accaduto qualche notte fa in Vico San Martino armati di bomboletta spray i misteriosi writers non solo hanno imbrattato le mura delle abitazioni ma anzi sono andati oltre si spera in maniera inconsapevole per un gesto che al netto di schiamazzi già denunciati dai residenti ha suscitato sdegno nella comunità però comunque è un gesto davvero bruttissimo che è stato fatto insomma il rischio il pericolo è che questo tipo di situazione venga sottovalutata e invece anche i residenti lo avete sentito chiedono un intervento il gesto è veramente orribile perché al di là del fatto che si deturpi diciamo l'aspetto storico di un quartiere che rappresenta una parte della storia di questa città una parte importante ma è in questo momento storico di particolare delicatezza è veramente intollerabile che delle persone palesemente ignoranti perché basta guardare quello che hanno che hanno fatto per comprendere che non hanno nemmeno bene cognizione di cosa di quello che stavano facendo perché anche le svastiche sono state disegnate in maniera errata quindi voglio dire è un gesto veramente inconcepibile inoltre è ancora più grave se si tiene conto che da anni ci sono persone che si impegnano per valorizzare questa parte della nostra città e favorire un turismo culturale che possa portare ricchezza al nostro borgo sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione la zona a due passi dalla cattedrale e dal castello pullula di telecamere chissà che con un po' di fortuna e dunque il servizio sul castello di Brindisi ve lo trasmetteremo tra poco andiamo avanti Udine prima Foggia che torna in maglia nera dopo 12 anni a Bari Bari resta prima tra le pugliesi ma oltre la metà della classifica il quadro sulla qualità della vita del report firmato dal sole 24 ore nel capoluogo meglio tempo libero cultura e sicurezza Taranto e Lecce guadagnano posizioni il servizio è di Antonio Bucci e Udine la città italiana in cui si vive meglio a incoronare la provincia friulana e la 34esima edizione dell'indagine del sole 24 ore sulla qualità della vita segnando l'ingresso in alta classifica del comune friulano ma pure il ritorno è in maglia nera di Foggia visto che il capoluogo Dauno non la vestiva da 12 anni conferma in seconda e terza posizione con Bologna vincitrice dell'edizione 2022 e Trento e anche quest'anno nella seconda metà della graduatoria resta una concentrazione di città del centro-sud con l'unica eccessione di Cagliari al 23esimo posto finiscono giù anche Caltanissetta e Napoli alla quale non basta l'effetto scudetto e le pugliesi per ritrovare la prima bisogna scendere fino allo slot numero 69 di Bari pur in discesa di tre posizioni ma che migliore è il proprio piazzamento sulle macro categorie di cultura e tempo libero demografia e società eppure giustizia e sicurezza Lecce ne guadagna sette in posizione numero 71 guadagna posti utili taranto stabile su affari e lavoro in miglioramento su giustizia e sicurezza e che peggiora la variazione al ribasso su ambiente e servizi Brindisi è in posizione numero 100 però ne perde otto la batte invece 85esima e dunque lo dicevamo era già successo nel 2002 e nel 2011 Foggia Maglia Nera nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore ascoltiamo il commento delle principali istituzioni della provincia intervistate da Antonella Davola è dolorosissimo vedere questa postazione da Maglia Nera ed è dolorosissimo pensando che i 95 indicatori di quel paniere Sole 24 Ore ci marchiano fortemente la provincia di Foggia torna dopo 12 anni a vestire la Maglia Nera nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore in ben 4 dei 6 indicatori il capologo Dauno appena uscito da un biennio segnato dal commissariamento a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose non riesce a far meglio di nessun'altra città italiana malissimo in affari e lavoro giustizia e sicurezza ambiente e servizi e cultura e tempo libero dopo la leggera risalita dell'anno precedente Foggia sprofonda dunque al 107esimo posto della classifica del quotidiano soprattutto l'indice di criminalità l'indice di disoccupazione soprattutto quella femminile e poi il PIL il PIL cioè la ricchezza pro capite le situazioni ISEE delle famiglie su tutto questo dovremo incidere lavoro crescita rigenerazione lo potremo fare con la voglia del fare e con tutti gli strumenti normativi economici e progettuali italiani ed europei però io ritengo che almeno per quanto riguarda l'anno corrente nella città di Foggia abbiamo un decremento importante di reati significativi quali i furti e le rapine e ciò è avvenuto anche nella provincia c'è stato un decremento importante anche degli eventi omicidiari quindi evidentemente questi riferimenti attengono all'anno 2022 purtroppo i risultati sono poco incoraggianti anzi sconfortanti c'è la necessità di un impegno di una responsabilizzazione generale da parte di tutte le componenti noi istituzioni siamo convinti e siamo impegnati su tutti i fronti per poter contribuire in primis al miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio che sono quelle che ci preoccupano maggiormente e che riteniamo sia la leva fondamentale anche per un rilancio e dunque lo dicevamo si annuncia il disgelo riguardo il dialogo sulla riapertura al pubblico del Castello Svevo di Brindisi l'incontro se non segreto era quantomeno riservato eppure al netto dei dettagli l'esito è stato evidentemente soddisfacente per tutte le parti in causa la stretta di mano tra il sindaco Cosimo Ferretti e il proprietario del maniero via borgo immobiliare Giuseppe Romanin del via ufficiale alle trattative tra pubblico e privato per la riapertura del Castello Svevo di Oria a cittadini e turisti il cordiale confronto iniziato a Palazzo di Città intorno alle 16 è andato avanti per poco più di un'ora poi la porta si è aperta e le posizioni di certo ancora distanti per dettagli e modalità con in mezzo a inchieste contenziosi e cambi di destinazione tutti da chiarire sono apparse quantomeno indirizzate verso un obiettivo comune Da parte della proprietà c'è assolutamente un'apertura nel trovare una soluzione su tutte le questioni che ci vedono contrapposti per il momento però siamo positivi e credo che con impegno da una parte e dall'altra riusciremo a traguardare un risultato e a trovare una soluzione che possa lasciare tutti soddisfatti di questa intesa però ovviamente abbiamo aperto un discorso dovremo rincontrarci e discuterne ancora per cui abbiamo aperto un dialogo Lasciare tutti soddisfatti vuol dire lavorare per la riepertura pubblica del castello Sì sì certamente anche quello Siamo impegnati gli amministratori i proprietari sono impegnati seriamente nel trovare una soluzione comune noi avvocati siamo impegnati anche a cercare di indirizzare queste soluzioni nei canali giusti anche dei problemi di carattere burocratico di carattere tecnico che non ci nascondiamo che ci sono che ci sia ma sicuramente con l'impegno di tutti e due e nell'interesse fondamentale veramente della città di Oria speriamo di trovare una soluzione Il castello di Oria è chiuso da circa un decennio per volontà della procura di Brindisi prima e della proprietà poi fuori dal maniero davanti a quel cancello sono rimasti fuori per anni cittadini e turisti e amministratori un'intera generazione che a quella stretta di mano ora vuole credere Bene, questo era il nostro ultimo servizio grazie per aver scelto la nostra informazione io vi lascio alla programmazione di Antenna Sud arrivederci Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti